Ciao Luca! Sempre un tifoso pescaresi Abbiamo visto che messaggiavi Con che messaggiavi? Con il club dei pescaresi Ci stiamo organizzando per il prossimo raduno per l'allenamento del pescara Ricordiamo che sei un tifoso pescaresi pescaresi doc Nato a Napoli? Sì sì Mamma mia Ragazzi non lo so che dico E vabbè e quindi? E quindi stiamo organizzando un po' i cori che dobbiamo fare Perché tu sei il cavo Cavo Cavo